E bella a tutti ragazzi e ragazze e ben ritrovati dalla vostra Cronatomist Oggi siamo qui con un video particolare perché anche questa volta Proprio voi avete partecipato a questo video Proprio come la scorsa volta La scorsa volta vi ho saputo di partecipare al video E abbiamo fatto appunto il format dei vostri segreti più hot di sempre Mentre oggi siamo qui con i vostri segreti più imbarazzanti di sempre Quindi abbiamo diciamo cambiato un po' questa cosa Quindi andiamo a vedere un pochettino cosa mi avete scritto Vi ricordo che ovviamente sarà tutto in anonimato per correttezza Quindi ragazzi se anche voi magari la prossima volta volete partecipare al mio prossimo video Mi raccomando seguitemi su Instagram molto importante Perché ovviamente lì è il modo in cui ho di comunicarvi Quando appunto andrò a fare un video o meno Quindi seguitemi, seguitemi bene le stories Così da capire quando andrò a registrare un prossimo video Per il resto ragazzi già sapete Lasciate un like, iscrivetevi al canale Trovate tutti i miei social qui sotto in descrizione Quindi seguitemi, vi aspetto ragazzuoli Ma ora iniziamo con il video, let's go Iniziamo ragazzi con il primo direct di oggi Allora il mio segreto più imbarazzante È che da piccolo a fine 10-11 anni Mi cagavo ancora Ma no! Allora, 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 allora In realtà ma no niente Perché ci può stare nel senso In genere quando c'è una roba del genere Quando sei veramente piccolino Che vai tipo all'asilo E anche più o meno alle elementari Alla fine penso che sicuramente Non è una cosa che c'è solamente a te nel mondo Quindi non ti preoccupare Non ti demoralizzare Ci sta Sarà accesso sicuramente a tante altre persone Fortunatamente a me questa cosa non mi è mai successa Vi devo dire la verità Meno male perché penso che mi sarei veramente imbarazzata A un livello esponenziale Anche perché c'era da capire anche dove ti trovassi Perché ovviamente quello rende ancora il tutto un pochino più cringe e imbarazzante Comunque Va bene ci stiamo al primo segreto Iniziamo subito con una bella merdina nelle mutande Adesso però passiamo al prossimo direct Allora secondo direct Il mio segreto imbarazzante è Un giorno mio padre stava in bagno E l'ho visto sega No 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 Allora Questa cosa No Credo che sia probabilmente una delle cose più imbarazzanti di sempre Vi giuro Preferirei Nella mia vita Ok Magari che i miei genitori entrassero in camera mia Mentre che io sto facendo qualcosa Piuttosto che io magari intravedere qualcosa di sfuggita per sbaglio Credo che sia veramente non dico una cosa proprio imbarazzante Ma veramente un trauma Fortunatamente a me non è mai successo di intravedere cose Con la verità Al massimo di ovviamente sentire qualcosa Provenire dalla camera da retta quindi fuori dalla porta Si riusciva a sentire qualcosa Ovviamente mi chiudeva ancora di più la porta Perché l'idea mi cringiava parecchio E non volevo sentire nulla Quindi mi chiudeva ancora di più sinceramente in camera E questa è finita Credo che sia però una cosa abbastanza traumatica Sì non l'augura nessuno Cioè in questa cosa tu non l'augurereesti a nessuno Presumo E va bene Segreto abbastanza spinto e traumatico Ma va bene Passiamo adesso al terzo DM di oggi Allora Terzo direct Il mio segreto più imbarazzante È che una volta Durante la lezione di geografia Me la sono fatta addosso E va bene ragazzi Ma cos'è oggi La serie di quelli che Tutti che vi fate la pipì addosso Vi fate la cacca addosso Allora 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 Ovviamente è scherzo ragazzi Ovviamente ci sta nel senso Da piccolini Come ho detto anche prima Succede veramente Alla maggior parte delle persone Di magari farsi la pipì addosso O anche la cacca E purtroppo È così È una cosa Che succede Ci sono un po' tutti E va bene Quindi vanno e fiere in realtà Pensa a quelli che non hanno mai Non hanno avuto questo problema Pensa a come si sentono oggi Persone anormali Ok Perché questa è la normalità Sto scherzando Va bene Comunque Andiamo al prossimo direct Dai Ti scrivo uno dei segreti Per il video Ok Stavo giocando a calcio Ed ero con i miei amici Mi spingono E vado contro a una E palpo Aspetta Vado contro una E li palpo il culo Li dico scu Vabbè l'ha scritto un po' Con un italiano un po' Diciamo poco comprensibile Ma va bene Fa niente Fa niente Non giudichiamo Vabbè quindi Ti hanno spinto i tuoi amici Contro questa ragazza Le hai palpato il culo Li dici scusa Ma lei ti ha fissato E ti ha fatto l'occhiolino Beh allora Nel male È finita abbastanza bene Perché diciamo che Poteva finire anche meggio Nel senso Ti spingevano Andavi su di lei Lei ti dava un ceffone così forte Che ti portava tipo all'ospedale Invece no Ti ha fissato E ha fatto l'occhiolino Quindi Mi raccomando Scrivono in direct In caso che così Almeno la prossima volta Che faccio il format Dei segreti hot Potresti essere Nel video Scrivelo Bene Andiamo al prossimo direct Ciao Martino Ho visto il tuo tiktok Dove dicevi di dire in direct Un segreto imbarazzante Ora ti dico il mio Oh vediamo un po' Un giorno Stavamo entrando A Disneyland Ero piccolino E ad un certo punto Mi sono perso la mia famiglia Madonna che cosa bruttissima Veramente traumatico Ogni volta Come supermercati Che sei in cassa I genitori Eh vado a prendere un attimo Una cosa Arrivo eh E pensando che fosse mia madre Ho dato la mano Ad una signora E io ho detto Mamma Mi sono fatto la cacca No Ma ancora Ma tutti Che si sverdono Dosso Ma in che senso Ah regà Ve lo giuro Siamo già tipo a tre Direct così Non ho letto i cinque contati Credo Quattro Non so Oh Tutti La stessa cosa Ma come è possibile A quanto pare È una cosa Che accomuna Molti di noi Va bene Va bene Noi non giudichiamo Qua siamo in un luogo Dove Non ne giudichiamo Ma apprezziamo tutti Dal primo all'ultimo Ok Quindi va bene E immagino il tuo imbarazzo Sarà sotto sicuramente le stelle Non oso immaginare La signora Cosa Abbia detto Fatto E fammelo sapere Ne direct Perché Sono curiosa Dato che sono in anonimo Sono tranquillo Esattamente Quindi stai sereno Allora Una volta Mentre mi stavo Vabbè Facendo un lavoretto di mano Nel pomello Della luce Nel bagno di casa mia Mi ero dimenticata Di chiudere la porta A chiave Azzo E in quell'istante Mentre stavo Per concludere Nel miglior modo Il mio lavoretto di mano Incredibile Assurda Entrò mio fratello Che mi vide Con il pipo Alzato E mi disse Dai che ce l'hai piccolo Cosa voi fanno Ma no Ma ti ho rektato il fratello Cioè questo è proprio Get rekt Niente Mi vergogna ancora Oggi Prossima volta Mi ricorderò Di chiudere la porta a chiave Allora ragazzi Io dico una cosa Ci sta che noi Persone Maschietti Femminucce Comunque abbiamo magari Un momento un po' particolare Di voglia istantanee E che quindi vogliamo Diciamo soddisfare Il nostro corpo Ok Ci sta Non è una cosa normale Però dico io raga Ma la porta Ma è la base Allora la tapparella Va chiusa Tenda messa Porta chiusa a chiave E ciao arrivederci Cioè come fate raga Io vi giuro Io quelle volte Che succedeva comunque Questa cosa ok Cioè comunque Mi assicuravo Mille volte Per paranoia Di avere tutto Completamente chiuso Tapparelle Porta chiusa a chiave Verificavo tipo Chiudeva a chiave Riaprivo Cioè provavo tipo Ad aprire la Ad abbassare tipo La mania Per vedere se servisse la porta Per una sicurezza in più Perché ero di una paranoica Incredibile Avevo proprio una paura Vestiale di questa cosa Come fate Gua a dimenticarvi Raga Come fate Ma no Comunque immagino Il tuo imbarazzo Però Posso dirti una cosa Quanto meno È stato simpatico È stato preso diciamo Un po' in giro Sicuramente per scherzare Per non farti diciamo Secondo me Imbarazzare ancora di più Però sicuramente È una cosa che tu Ti ricordi ancora oggi Ma vabbè Però dai Immagino già il fratello In che modo Te l'abbia detto Insomma con forse Voce molto ironica E la cosa mi fa abbastanza Diciamo divertire Cosa che probabilmente Tu non ti hai divertito Ma È frato Anna così fratelli Andiamo al prossimo dare Alla ragazza che mi piace Quando l'ho conosciuta Mi ha detto il suo nome Candida E io ho detto Sì Io sono della Lombardia Pensavo fosse una città No Ma come Ma come fai A sbagliare in questo modo Ma in che senso Ma scusami No vabbè Io non ci posso creare Posso dire la definizione Di figura Di Motadre Motale Ecco Questa è la definizione Di quello che ho appena detto Complimenti Bravo Hai vinto Hai vinto Prego Io devo dire che ragazzi Questi format così Dove mi rendo partecipi Sono bellissimi Perché Mi diverto comunque A leggere i vostri segreti Ma ovviamente in modo ironico C'è scherzo ovviamente con voi Perché anche voi che me lo scrivete Ovviamente Sicuramente vi aspettate Che mi faccia una risata con voi Tanto comunque tutti in anonimato Quindi siete comunque tranquilli Però Santo Dio Ma cosa leggo Cosa leggo Andiamo al prossimo Prima che qua Impazzisco Altro segreto Ciao Martina Ti racconto il mio segreto Una volta sono andata in gita A scuola E in bus mi sono innamorato Di una ragazza E la madonna Vabbè Innamorata Da piccoli Diciamo che diciamo Ci siamo innamorati Ma è diciamo Quella cotta Così Stantana Vabbè Da piccoli ci sta Raga è normale Finchè a un certo punto Ho deciso di baciarla Ah così Se tu entri nell'autobus Per andare a scuola Vedi una ragazza Ti innamori E decidi di baciarla Sarà finita male Spoiler Mi dà uno schiaffo Eh ma grazie al Boss Ah ma scusami C'è una persona Che probabilmente non conoscevi L'hai appena vista Nel bus Dovete andare a scuola Quindi in un posto Veramente dove ti Smarturizzi Eh Le palle da basket Prendi di un bacio Allora io non avrei reagito Con uno schiaffo Ma avrei reagito Proprio con un calcio Nelle palle Ma no ma non si fa così Mi scusi Ok che magari L'hai fatto da piccola Quindi ci può anche stare Cioè presumo che tu fossi Fosti piccolo Non lo so Però vabbè Era palazzo Che sarei andato a finire così Doveva andare così fratelli Doveva andare così La prima volta Che ho fatto Bunga bunga Ero con una ragazza Di sette anni Più grande di me Ok quindi bella grande Praticamente Sono venuto Dopo Due minuti Però sono stato furbo Perché non l'ho fatto capire nulla Sono scappato in bagno Fingendo un bisogno urgente Mi sono ripulito E sono tornato A continuare l'ovra Ma mi scusi Mi scusi Allora Posso immaginare L'imbarazzo Magari nel tuo caso Nel fatto che magari Hai finito Il tutto In due minuti Quindi Sono sicura che questa sia Diciamo Una Una paura Per la maggior parte Dei ragazzi Che in genere si sa Che magari La donna Dura molto di più E l'uomo Magari può succedere Che duri veramente poco Quindi è una paura Sicuramente molto comune Poi a meno che non sei Con la tua fidanzata Da tanto tempo Che succede Dici non fa niente Cioè sti cazzi Cioè ci ridete anche sopra Se magari una persona Hai conosciuto da poco La prima volta Con una persona a caso Eccetera eccetera Sicuramente è una cosa Che può imbarazzare tantissimo Ma più che altro Non capisco come lei Non si sia accorta Di questa cosa Cioè sarei curiosa Di capire Magari scrivermi Non è direct Così che Sono curiosa io Ecco Di capire come Come non se ne si accorta Nel senso Cioè Io me ne accorgerei Da una reazione Da una persona Come si muove Le espressioni facciali Cioè sono tante cose Il linguaggio del corpo Quindi io magari Me ne accorgerei Però dipende Non so quanti anni Avevi tu Lì E quanti ne aveva lei Ci può stare Che magari Non se ne ha posso accorgere Comunque vabbè Grande uomo Che è tornato Dopo qualche minuto Per completare l'opera Bravo Vai uomo Così si fa Così si fa Quindi diciamo che Nel panico poi E nel quello che era successo Si è tornato comunque Più forte di prima Bravo Così si fa Complimenti E questo ragazzi Era l'ultimo segreto Di oggi Bene ragazzi Siamo giù a termine di questo video Devo dire che mi sono divertita tantissimo A leggere i vostri segreti imbarazzanti Veramente Veramente Tantissimo Quindi sicuramente Faremo una parte due Quindi ragazzoni Mi raccomando Se anche volete partecipare Ad un mio prossimo video Qui sul mio canale youtube Non dovete fare altro Che seguimi sul mio profilo instagram Mi raccomando Importantissimo E ovviamente Sappiate ragazzi Che da un giorno all'altro Vi posso pubblicare delle stories Dove vi dico appunto L'argomento del video Che voglio registrare E di conseguenza Voi potete appunto agire E quindi mandarmi in direct Il messaggio Con quello che appunto Ho richiesto nelle stories Così da partecipare Ad un mio prossimo video Trovo come hanno fatto i ragazzi Di questo video E anche dei miei scorsi video Quindi ragazzi Liberi Dalla vostra grande amministra è tutto E spero che vi sia divertito Con questo video Mi raccomando Se dovete essere così Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo In un prossimo video Bella a tutti ragazzi